L'ottavo tema del progetto Disegnare il futuro fa tremare le vene dei polsi perché è molto impegnativo. Parliamo di società giusta, quindi un concetto di equità che viene peraltro ripreso dall'intervento finale nel dialogo di Marzia Tomasin con Roberto Mordacci che parla di ritorno all'utopia. Gli contributi che abbiamo in questo caso selezionato riguardano l'intervento di Andrea Pontremoli che sviluppa questa idea di integrità morale che è quella che secondo lui ha permesso l'Italia di ricostruire un paese dopo la guerra. Enrico Fontana che individua nel coraggio, nel tempo e nella continuità e nella coerenza i valori per poter costruire una società giusta ed infine un intervento legato alla buona amministrazione di Cristina Tajani assessora allo sviluppo del comune di Milano che parla di innovazione e inclusione. Ecco queste ci sembrano tutte le possibili strade per ripensare una società giusta. Ma da dove è partita questa crescita? È partita dalla consapevolezza prima di tutto. È partita da persone che avevano un'integrità morale incredibile. Chi ha fatto la Costituente, chi ha costruito la nostra Repubblica erano persone e di un'integrità morale indiscussa. È da lì che secondo me si parte. E questo tipo di pensiero è un altro punto fondamentale e l'ho sentito anche stamattina, è che l'Italia è cresciuta anche attraverso i suoi corpi intermedi, attraverso le associazioni, la capacità di aggregare intorno a dei pensieri, persone, risorse, capacità. E questo tipo di discorso lo possiamo vedere nella Confindustria di turno o nella fondazione di turno. Io stesso sono presidente di non so quante associazioni culturali o meno, ma tutto questo ruota intorno all'aggregazione di persone che hanno degli ideali. La cosa peggiore che a noi ci può capitare è di distruggere gli ideali, di distruggere delle idee attorno a cui le persone si aggregano volentieri. Che questa è davvero, se vogliamo cambiare, se vogliamo dare a questa stagione nella storia dell'umanità un segno per cui vale la pena che sia ricordata in positivo, oltre che per i disastri che sono stati commessi, è veramente la stagione in cui bisogna dedicare tempo, l'unità di misura del cambiamento è il tempo, il tempo che dedichiamo a coltivare le relazioni umane, diceva benissimo Fabio Papa prima, al capitale umano, alla forza delle relazioni umane, ma anche il tempo che non possiamo perdere, dedicare tempo all'ascolto, metterci in questa stagione coraggio, ci vuole coraggio, il titolo del congresso di lega ambiente che si farà dal 22 al 24 novembre a Napoli è il tempo del coraggio, c'è bisogno di coraggio, coerenza, ci vuole coerenza e soprattutto continuità nell'impegno. Quello che noi abbiamo cercato di fare sia in termini amministrativi sia in termini politico culturali con l'associazione Innovare per includere provando appunto a mettere in stretta connessione, anzi diciamo in un rapporto di dipendenza l'una dall'altra, la parola innovazione ed inclusione. In un'epoca appunto in cui la predominanza diciamo dell'innovazione tecnologica, della trasformazione del digitale e la sua capacità trasformativa anche delle nostre stesse esistenze e così evidente, la scelta che abbiamo provato a fare anche come guida, come elemento di guida della costruzione delle politiche pubbliche sebbene a livello territoriale che è quello che è a mia disposizione, il resto non è a mia disposizione, a disposizione diciamo del lavoro collettivo che ha fatto anche l'associazione è quella di cercare di assecondare e come dire favorire quel tipo di innovazione, anche innovazione tecnologica, anche innovazione digitale in grado diciamo di mettersi al servizio di un processo di allargamento dei diritti economici, di cittadinanza diciamo sociali e culturali di un numero il più ampio possibile di persone, diciamo di nostri concittadini in particolare. Grazie a tutti! Grazie a tutti!